È arrivata purtroppo la sconfitta con un Trentino che si è dimostrato veramente una grande squadra, una delle favorite. Sì, di sicuro una grande squadra. Noi siamo arrivati abbastanza tesi perché dovevamo per forza vincere 2-0 per qualificarci. Il problema è che loro erano una squadra molto fisicata, noi abbiamo subito molto sulla fase di ricezione d'attacco perché loro erano veramente alti a mura, era difficile passare, era una squadra molto solida. Noi siamo stati attaccati i primo set, però abbiamo dovuto adattare molti asset di squadra per starli dietro che in verità non ci hanno fruttato quasi niente. Di sicuro domani è una giornata molto importante perché il nostro obiettivo è arrivare quinto adesso, è il massimo a cui possiamo aspirare, quindi dobbiamo cercare di dare tutto per raggiungere l'obiettivo più alto che possiamo raggiungere. Grazie.